Sconfette sì, ma sul pezzo sino al termine, Basilia Potenza e Basket Fasano nel campionato di Serie B femminile. Addirittura una coda supplementare per la squadra lucana, battuta in trasferta da Sant'Antimo per 76 a 67, ma vicinissima al colpo esterno alla fine del quarto periodo, con un canestro da tre insaccato a fil di sirena, ma giudicato fuori il tempo massimo, una vittoria che avrebbe consentito al Potenza ora sesto a 20 punti in classifica, di avvicinarsi proprio a Sant'Antimo, che adesso farà visita sul campo di Cisternino proprio a Basket Fasano. La streccia positiva della compagine di Arrighi si interrompe a Catanzaro, Calabresi vittoriose sul 66 a 61, ma anche sotto di sette lunghezze nel corso del terzo periodo, in una sfida decisa solo all'ultimo minuto. Di Numa e Tagliamento, 13 punti a testa e i migliori scori realizzativi. Anche Potenza riprende nel suo cammino contro Ariano Urpino, nel frattempo si è rinforzata con il ritorno di Francesca Tolardo. In Serie C, Dinamo Taranto non perde un colpo, inanellando il terzo successo in sette giorni. Al tappeto questa volta ci va Gymnasium San Pancrazio, battuta sul suo campo per 60 a 42. Avanti da subito da ragazze di Cocio Orlando. Si esaltano Palmisano, 18 punti e Ciminelli, 16 per la chiusura della stagione regolare. Ora si va a Trania all'esame di New JT, seconda in classifica con due lunghezze di ritardo. Anche le Tranesi vincono in trasferta, 72 a 62 a Lecce contro la scuola di basket, conquistando la ritmatica certezza di disputare i play-off. Gli altri due posti sono ad appannaggio di Pink Bari, Corsara a Ruo per 77 a 38 e Lecce, che dovrà però difenderlo all'ultimo giro in casa di San Pancrazio, quinta in graduatoria. A completare il quadro della giornata, l'affermazione dell'altra barese, Marlò, su Mensane-Mesagne per 68 a 51.